Mi porto a Montello Guardate che bello, che colori Sono arrivata qui e dovevo andare a fare una passeggiata, una lunga passeggiata e arrivando qui ho visto persone che facevano il bagno ancora Visto il mese, visto l'ora, che comunque c'è caldo, anzi ho messo questo qui ma non è così necessario Si sta bene, è in aria confortevole, si sta a vedere bene e vedete un po' lo voglio condividere Spero che l'abbiamo Proseguiamo, vedete Tranquillità, non so se riesco a sentire Qui è tutto ordinato Dietro di me voglio di sedersi, di chiacchierare Sono circa le sei e vi farò vedere che ci sono delle persone che hanno fatto il bagno Che stanno facendo ancora il bagno Ve lo dico, è che si può fare attività Ho fatto altri video sul Montello, guarda a vedere Come si vede adesso la spiaggia è libera, è quasi la fine proprio del mese di ottobre Quindi è tutto libero e ognuno prende un pezzettino di spiaggia per allestire un campo di gioco Voglio fare due passi qui su questa morbida sabbia Bisogna mettere sempre delle scarpe comode Percorro tutta questa parte di qua Vedete? Piedi E' un po' di attività Che ci voglio anche Passeggiando Passeggiando a Montello Passeggiando a Montello Passeggiando a Montello Passeggiando a Montello Passeggiando a Montello